Un viaggio importante questo a Bruxelles per presentare il nostro ambito. Bruxelles è un palcoscenico importante per presentare la Marimma Toscana e poi anche per un sistema di relazioni con le istituzioni europee che ci servono anche come modo per capire quelle sono le opportunità che l'Europa offre ai singoli territori, offre alle comunità locali. Per quello che ci riguarda è stato importante presentare anche quelli che sono i nostri prodotti turistici in particolare quelli legati ai borghi, quindi alle comunità più periferiche che hanno bisogno di una rivitalizzazione, una rigenerazione delle comunità e che pensiamo che il turismo possa farlo. Possa farlo utilizzando il turismo sostenibile, quindi in qualche modo il turismo green e poi anche quel valore rappresentato dall'ambiente con quei prodotti turistici che è adesso legato, ad esempio il bike, i cammini, il trekking e poi in generale anche la valorizzazione della cultura e dell'arte che in Toscana, anche in Marimma Toscana non manca mai. Grazie. 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 Grazie.